Sindaco Capozzo, la tensostruttura di via Dorando Petri ormai sono mesi che è ultimata, non ci lavora più nessuno all'interno, però non viene ancora utilizzata, perché? I lavori in realtà sono finiti, quindi la struttura è pronta per essere utilizzata, non viene ancora utilizzata perché l'Enel ci ha richiesto per l'allaccio ovviamente una cabina elettrica, ha dovuto fare un sopralluogo che è stato fatto in questi giorni, ora stiamo aspettando il risponso, se hanno trovato insomma il posto dove sistemare questa cabina elettrica, dopodiché fatto l'allaccio inizieremo a utilizzare la tensostruttura. E' sempre una questione anche economica, ci sono questa volta i soldi nel fondo casa del comune per pagare l'Enel? Ovviamente ci saranno perché in questo momento noi stiamo facendo il bilancio sia il consuntivo che quello previsionale, stiamo mettendo varie voci, stiamo mettendo la voce ovviamente le urgenze che sono quelle della scuola, sono quelle della strada che va a via Campana. E a proposito di via Campana, c'è quel semaforo ormai che è diventato una croce per tutti gli automobilisti che devono spostarsi da quarta a quale anno, da quale anno verso quarto, quando potrà essere realizzata l'arteria in perfetta efficienza? Siccome è una spesa abbastanza elevata, stiamo aspettando il bilancio di previsione in cui sarà inserito ovviamente nel previsionale questa spesa, nel momento in cui viene inserito verrà fatto il bando e poi il successivo appalto. Occorreranno quindi diversi mesi, non c'è una soluzione alternativa per permettere il passaggio contemporaneo dei due veicoli, magari allargando la strada dal lato opposto alla frana? Questa cosa in realtà, questa soluzione l'abbiamo chiesta ai tecnici, ci faranno avere una risposta ufficiale, ma da quello che ho capito è troppo rischiosa ed è comunque pericolosa perché c'è una difficoltà oggettiva nel trovare questa soluzione che sia anche legalmente e tecnicamente sicura. Sindaco, un'ultima domanda. La gara d'appalto per l'impianto di illuminazione di Via Madre Teresa di Calcutta è stata espletata diversi mesi fa, è stata anche giudicata la gara d'appalto, la dita pare abbia avuto anche il contratto, però questi lavori non iniziano mai. In realtà non è stata espletata tutta la procedura, sono problemi burocratici per cui si fermano questi rallentamenti che sasperano tutti i cittadini, ma anche il sindaco, non solo i cittadini e siamo fermi alla pubblicazione della determina che dovrebbe essere avvenuta ieri, se non è arrivata ieri sarà oggi perché comunque stiamo concretamente sollecitando questa cosa. Può darci dei tempi di inizio del lavoro e magari anche la fine? La fine dei lavori in realtà dipendono ovviamente dall'inizio dei lavori e ci sono nel contratto. Quelli per quanto riguarda l'inizio basterà la pubblicazione e potranno iniziare i lavori, perché sono state esplotate tutte le attività burocratiche, manca solo la pubblicazione della determina. Possiamo dire che fra una settimana inizieranno i lavori? Dall'ultima esperienza ho capito che non devo dare più date, perché sono state smentite costantemente, però sì possiamo dire che dalla settimana prossima inizieranno i lavori in questo caso.